ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video decluttering oggi faremo i pigmenti occhi quindi anche un po di ombrettini diciamo sparsi e le matite occhi così giusto per andare avanti con la serie te li prendiamo normalmente come al solito e iniziamo subito allora questo qui è il primo cassetto che volevo appunto sistemare perché dentro un po di pigmenti vecchi un po di roba che non uso più abbiamo un po di pigmenti vari dei medium per mixare i pigmenti infatti abbiamo questo qui che è il Duraline di Inglot che uso per tantissime cose è anche utilissimo tipo per ravvivare i prodotti in crema che non vanno più tipo gli eyeliner che si sono seccati oppure le pomade per le sopracciglia tipo la deep brow di Anastasia è perfetto per ridare di nuovo vita a questi prodotti poi ho due glitter primer di NYX semplicemente perché questo si è distrutto stanno nel cassetto si è tipo piegato e si è tolto il tappino quindi poverino ormai ci ha abbandonato abbiamo constatato che si è praticamente seccato tutto nonostante dentro ci sia ancora tanto prodotto cioè potrebbe funzionare però è proprio duro quindi non è decisamente il caso di continuare ad utilizzarlo quindi niente poverino addio e perciò nulla terremo solo la versione piccolina per quanto riguarda altri medium ho questo qui che è il multitasker sempre di NYX praticamente è una base per miscelare gli ombretti e renderli eyeliner non l'ho usato molte volte però appunto ha una consistenza tipo gelosa è tipo gelosa siliconica sinceramente per mischiare gli ombretti e creare magari degli eyeliner eccetera preferisco il Duraline perché è più liquido rende quindi l'eliner molto meglio come consistenza allora in cima al cassetto abbiamo questo prodottino di Wet n Wild che sarebbe un ombrettino singolo di glitter prestati il problema è che io l'avevo comprato con grandi speranze ma in realtà ha solo uno strato superiore di glitter che vedete qui e poi sotto è tanta crema e pochi glitter e soprattutto questa crema è davvero davvero troppo appiccicosa e non cioè vedete non combina niente non viene su nulla cioè ne dovete davvero prendere tanta a quel punto mettendola sull'ombretto l'ombretto sotto si distrugge e per di più rimane appiccicosa quindi non è davvero niente di che e perciò lo butto poi qua abbiamo un po' di pigmenti di Inglot tranne questo che è un body sparkler sostanzialmente sono dei glitterini molto fini pensati per il corpo per il viso in generale però se devo essere onesta con voi per la quantità di glitter che avete il prezzo davvero non vale la pena sono particolari sono carini perché comunque sono trasparenti riflettono lilla lilla viola invece tutti questi qua sono pigmenti gli AMC Pure Pigment questi qui sono meravigliosi sono veramente bellissimi e vabbè questo qui invece era un sample che mi ero fatta dare e questo qua è del numero 114 questi invece sono il 125 che è quello che riflette tipo fucsia rosa su una base bronzo il 122 questo oro verde sempre con una base bronzo marrone e infine l'ultimo che è sempre duochrome ha una base marrone però riflette lilla e azzurro è il 120 eccolo qua qui abbiamo invece un ombretto di Neve Cosmetics nella colorazione Jellyfish in realtà più che essere un ombretto è tipo una specie di glitter molto fine ha una base bianca, riflette arancione e rosa anche questo è bellissimo, lo uso per fare vari effetti spesso lo metto anche come illuminante nelle foto perché appunto essendo un glitter riflette moltissimo la luce poi abbiamo questa qui che è praticamente una torre di glitter di NYX me l'avevano data all'evento di Halloween in una confezione insieme a mini primer per i glitter poi qui come vi dicevo ho tutti i glitter di NYX che non sono niente male in realtà come glitter sono molto molto carini, molto fini e niente ho tutti i colori sostanzialmente anche quegli olografici sono bellissimi, li ho già usati questo è stupendo l'olografico argento è bellissimo se non l'avete andato a darci un'occhiata perché è veramente stupendo e di tutti è quello secondo me che in assoluto dovresti avere facciamo che li tiro tutti fuori così poi vediamo come organizzare bene lo spazio vediamo se ci stanno in questo cassetto bene altrimenti li spostiamo o magari terrò solo i colori che uso di più poi qua ho tre pigmenti di MAC blue brown, rose e vanilla vanilla tra l'altro ne ho usato un po' e ho creato un ombretto compatto se andate a vedere il mio decluttering degli ombretti lo trovate sicuramente nella mia palette quella che porto nel kit perché l'ho reso diciamo una specie di illuminante e lo porto con me in tutti i lavori se volete provare qualche pigmento di MAC vi consiglio di partire prendendo questi qua piccoli perché comunque il pigmento grande il tempo che lo finite sono appunto questi cioè il pigmento grande vi dura tipo una vita è un po' inutile sinceramente per quanto riguarda invece i pigmenti grandi per la quale non ho saputo trattenermi abbiamo copper sparkle e questo qui che è uno dei glitter praticamente trasparenti che riflettono questo qui riflette tear e è un glitter sostanzialmente trasparente di base quindi potete metterlo su qualsiasi altro colore e non ne altererà appunto il colore finale se non per il riflesso che danno il glitter trovo che i reflex siano bellissimi proprio perché sono trasparenti e riflettono i colori ho visto che ce n'è anche uno rosso voglio troppo andare a prenderlo però lo hanno solo nel pro store di Milano quindi appena che passo andrò a chiedere se ce l'hanno qua dietro abbiamo un pigmento di Kiko che ha tipo l'età della pietra mi trovo davvero molto bene perché ha un riflesso bellissimo almeno da quanto mi ricordo dei bei tempi cioè è bellino diciamo che ci si può fare dei trucchi molto semplici non è un colore che userei moltissimo sinceramente magari sarebbe carino tipo prenderne un po' trasformare in un ombretto compatto e fine e il resto buttarlo perché tanto non lo uso quasi mai e sapete che mi sa che è proprio quello che farò lo renderò un ombretto compatto e fine della storia diciamo che preferisco usare dei pigmenti quando per esempio come Copper Sparkle hanno una componente foil che comunque è difficile da rendere da prendere da un ombretto compatto da un ombretto normale e allora quindi ricorro al pigmento ma se devo ricorrere a un pigmento per ottenere un ombretto normale mi scoccia qua dietro invece abbiamo un ombretto in crema di Nabla questo è Supreme anche questo l'ho usato pochissime volte ma non perché non mi piaccia ma perché non mi trovo ad usarlo però siccome è un ottimo prodotto lo teniamo comunque a portata di mano arriviamo alla parte in cui volevo fare un po' più di scarto perché qua abbiamo un glitter per il corpo di Max Factor tra l'altro c'è scritto omaggio cioè questa è una di quelle cose vecchissime che aveva la mia mamma e anche no forse è arrivata l'ora di abbandonarlo tra l'altro è mongolissimo perché ha questo distributore del prodotto così che è inutile ho decisamente altri glitter oro nella mia collezione tipo questo qua di NYX quindi penso che lo regalerò a qualcuno visto che io sicuramente non lo userò mai poi qua abbiamo tre pigmentini questo in realtà è un glitter per le unghie di Essence questi due invece sono dei pigmenti io li avevo quasi tutti ma perché mi piacevano davvero tantissimo il fatto della confezione così piccolina e niente li ho tenuti perché erano cute li volevo tenere è arrivata ora di salutarci anche se sono molto belli ho provato questi a ridurli in ombretto compatto ma non erano usciti bene e non si erano fissati bene tanto è vero che questo ogni volta che risbattevo il compatto si ripolverizzava tutto quindi anche questi li scarterò infine nel cassetto abbiamo questi sei pigmenti di cui uno un glitter del brand Linka Care Cosmetics non so se lo conoscete se l'avete mai visto sul mio Instagram l'ho usato spesso soprattutto addirittura questo l'ho usato spessissimo come illuminante si chiama Goldust ed è il primo brand che mi abbia mai contattato per fare una collaborazione su Instagram quindi diciamo che ho un rapporto abbastanza affettivo con questi pigmenti non li uso più molto spesso però devo dire che sono molto molto carini soprattutto questi due Diamond Sparkle e questo qui Goldust che utilizzavo come illuminante è bellissimo però siccome non ho altri posti dove metterli non vorrei buttarli perché proprio ci sono affezionata li riterremo di nuovo qua vediamo se al massimo dopo salta un posto da qualche altra parte in realtà ho sparsi negli altri cassetti ho anche altri pigmenti tipo dentro questo cassettino ho innanzitutto questi pigmenti di L.A. Splash penso di averveli tirati fuori nei video preferiti sono questi pigmenti contenuti in una confezione a sfera e sono abbastanza ingombranti infatti qua dentro ci stanno giusto a pelo e ci stanno solo loro quindi volevo in realtà fare spazio e mettere tutti i pigmenti insieme una buona volta per tutte allora i miei tre di L.A. Splash giusto per riferimento sono Magellanic Orion e Zodiac ve li consiglio se magari quest'anno andate al Cosmoprof e li vedete vi consiglio assolutamente di comprarne qualcuno perché a me piacciono tantissimo poi ho anche questi quattro pigmentini della Star Crushed Minerals non so se l'avete mai vista su Instagram hanno dei pigmenti stupendi però mi hanno mandato questi quattro colori un po' scemi e in teoria sono tutti matte e con questi due avevo fatto un make-up carinissimo su Instagram che tra l'altro è stato molto amato quindi se andate su Instagram sicuramente lo trovate con questi due colori è venuto benissimo vorrei provare sicuramente altri colori della loro gamma tipo i rossi e i blu che mi sembrano bellissimi poi ho questi tre di Sigma sono tre pigmenti loose shimmer e glitter i colori sono Felicity Hairy e Ethereal che è un glitter che riflette rosa bellissimo e lo uso tantissimo come illuminante o comunque per accentuare l'illuminante tanto che è caduto insomma sfruttiamolo so se riuscite a vedere quello è meraviglioso questo sicuramente è quello che voglio tenere a portata di mano perché è quello che uso più spesso diciamo che da un lato non vorrei dividerli vorrei tenerli tutti insieme però dall'altro questi non li uso praticamente mai quindi potrei anche toglierli direttamente dalla collezione quindi adesso li mettiamo dentro tutti questi vediamo se ci stanno e come possiamo combinarli allora direi decisamente che questi due siccome sono abbastanza inutili li regalerò a qualcuno li toglierò dalla collezione perché sicuramente non li userò mai e occupano solo una marea di spazio ok quindi questo è il cassettino completato tutto ordinato per bene e sono riuscita a metterci dentro tutti i pigmenti che avevo sparsi in giro per almeno questi cassetti mentre per quanto riguarda questi prodotti che sono puramente funzionali o comunque dei mixer pensavo di fare un cassetto tutto dedicato a loro tutto a questi prodottini con anche tipo per esempio i primer per il viso in genere è questo tipo di prodotti quindi li tarò un attimo da parte poi abbiamo il cassetto delle matite occhi come vedete sono tantissime e ho bisogno assolutamente di fare uno scarto allora iniziamo da questa parte piano piano arriviamo fino in fondo allora qui subito ho tre liner glitterati di NYX e questi qua mi piacciono tantissimo ho preso questi tre colori ma anche gli altri sono bellissimi io li uso praticamente applicandoli sulla palpebra così proprio picchiettandoli e lasciano giù i glitter ovviamente si seccano perciò sono proprio a prova di bomba e mi piacciono molto anche perché sono semplici ad usare pure come eyeliner però ovviamente non fanno parte di questo cassetto e quindi li metteremo nel cassetto degli eyeliner poi qua sotto ce n'è ancora un altro della Debbie blu eccolo qua sì funziona ancora questo invece è quello di NYX del colore crystal peter sì come vedete rispetto a quello di Debbie è decisamente più omogeneo i glitter sono più fini no no sono veramente stupendi bellissimi allora diciamo che io avevo diviso le matite in sezioni quindi c'era la sezione NYX neve e tipo altre allora qua davanti abbiamo tutta la serie delle matite fox white sempre di NYX non so se le avete viste nei negozi ma sono praticamente matite molto molto chiare che però hanno questo leggerissimo colore di base quindi c'è quella leggermente lilla azzurrina rosa pesca gialla e verde e io le uso molto soprattutto nei lavori artistici perché appunto illuminano ma danno anche quel tocco di colore in più ne faccio vedere una a caso tipo l'azzurrina vedrete che è molto chiara però ha comunque quel tono azzurrino questa invece è rosa e poi quella gialla che è una delle mie preferite eccola qua poi abbiamo le mie matite burro preferite abbiamo questa qua che è di sephora nel colore infinite beige 07 è una delle mie matite burro preferite come vedete praticamente del colore della mia pelle leggermente più scuro nell'occhio invece è illuminante quindi non vi preoccupate se sulla mia pelle risulta più scuro ma nell'occhio si vede e come e poi questa qua di Burberry me l'ha regalata una mia amica si chiama effortless cold eyeliner e nella colorazione stone numero 00 ed è fantastica perché oltre ad essere molto molto chiara e pigmentata si fissa anche nella rima interna e questa cosa ovviamente la rende meravigliosa appunto perché è proprio a lunga durata e come vedete è leggermente più chiara di quella di sephora poi ho la mia piccola matitina bianca della vita questa è aiuto questa è una matita di pupa bianca come vedete ha veramente svolto il suo lavoro egregiamente e a me piaceva davvero tanto tuttora la metto ancora nella rima interna e ogni tanto la sostituisco con milk di NYX ed è della pupa numero 20 però sinceramente non saprei dirvi che cosa fosse esattamente come fosse chiamata è una matita per gli occhi bianca poi ho trovato questo matitone qua di essence che è shadow and liner quindi è doppio praticamente fa anche da base però io l'avevo usato in un video come base per i trucco occhi non è malvagio però non uso questo genere di matitoni basi quindi niente lo regalerò a qualcuno che saprà sicuramente usarlo un po' di più dalla sottoscritta sempre per quanto riguarda le matite colorate abbiamo queste due di color pop che sono prance e punch una azzurrina e una gialla purtroppo si sono distrutte anche col viaggio quindi purtroppo appunto si sono un po' rotte e distrutte però il colore è meraviglioso quindi se esistono ancora sul sito il color pop il che non ne sono molto sicura però se esistono ancora dateci un'occhiata perché sono bellissime e poi avevo preso questa matita di make up forever sempre acqua xl ed è lilla e la cosa fantastica di queste matite che ti lasciano il colore che appunto è stato scelto proprio perché lilla così particolare si fissano e non vanno via nemmeno con le bombe a mano quindi veramente se anche cercate per esempio la matita nera o quella bianca che non si spostino dalla rima interna queste qui davvero sono prova di bomba vediamo un po' in generale a tutte le altre matite ho tutte quelle nuove di neve cosmetics perché me le vanno mandate e le uso abbastanza spesso soprattutto la nera la verde sono molto cremosi e pigmentate però non si fissano nella rima interna rimangono comunque sempre molto cremosi quindi le uso solamente per le foto non per uscirci perché appunto non mi rimangono tanto tempo però i colori sono molto molto belli molto accesi vibranti soprattutto le metallizzate sono bellissime me ne prendo una a caso questa è corona cioè è veramente bellissima riflette tantissimo ed è super metallizzata quindi queste qua di neve le tengo perché comunque mi capita spesso di utilizzarle poi ho anche una marea di matite di NYX tipo questa che è la slide on glide on nera queste matite sono bellissime molto simili alle acque XL perché si fissano anche loro quindi se dovete proprio comprare delle matite e ne cercate magari una nera da mettere nella rima interna eccetera vi consiglio le slide on glide on perché sono stupende ne ho anche altre tipo questa qua bronzo ed è altrettanto scrivente metallica come quella di neve però appunto la differenza è che queste si fissano molto bene nell'occhio questa azzurra poi fantastica poi qua ho due matite essence long lasting nella colorazione black fever non so se queste esistono ancora non ne ho la più calida idea però una è nuova e l'altra invece è un po' usata si scrive ancora si è distrutta grandissima Roberta sei un genio con queste mi trovo davvero molto bene perché come vedete è un nero super 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 intenso io addirittura ci disegnavo le liner sulla palpebra con queste nemmeno le utilizzavo per la rima interna proprio per l'esterno mi ci trovavo benissimo perché voi dovete sapere che io fino alla terza superiore più o meno mi disegnavo le liner con queste matite e non con appunto le liner in giallo che ho iniziato ad utilizzare dopo tipo in quarta e quinta perciò sì queste qui sono a prova di bomba è per questo che ne avevo due addirittura poi di NYX abbiamo tutta la linea delle fuchs black che sono queste a quattro qui come vedete abbiamo un blu scuro un viola un viola molto molto scuro e un grigio esisteva anche un verde scuro ma non è questa questa qui è una matita normale verde scuro di NYX però vabbè sono stupende tutte quante sono colori piuttosto particolari diciamo quindi le terrò poi scrivono davvero benissimo e sono super 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 cremose poi abbiamo anche qualche matita di Kiko in giro e anche queste le usavo tantissimo prima appunto di utilizzare quelle di Essence questa qui era un'edizione limitata la 04 non mi ricordo esattamente di che edizione però appunto ha questo colore particolare glitterato ed era molto carina appunto perché era particolare così però siccome è un'edizione limitata e è un po' inutile che io la tenga perché anche non la uso quasi mai la regalerò qui invece abbiamo due matite sempre di Kiko vibrant A pencil e sono quelle che dietro avevano il gommino queste qui erano le prime che utilizzavo per farmi le liner credo che sia arrivata l'ora di salutarci perché queste sono davvero molto vecchie e sinceramente ho matite che scrivono molto meglio quindi niente le buttiamo proprio questa anche era un'edizione limitata ma come vedete ha due lati uno nero molto scrivente questo è molto più scrivente delle vibrant sempre di Kiko e il lato glitterato che è un blu scuro con questi riflessi azzurri siccome è un colore molto bello lo terrò comunque anche se era un'edizione limitata poi vedo altre due matite di essence sempre in long lasting ai pencil però in due colorazioni diverse qui abbiamo il marvone e questa qua che si chiama berry mary che è un violetto metallizzato un po' scemo quindi questa niente la regaleremo perché appunto non la uso mentre questa marrone può tornarmi utile la terrò qui abbiamo un'altra matita di Kiko glamorous eye pencil sicuramente anche questa è vecchissima però ha questo verde smeraldo meraviglioso cioè metallizzato bellissimo forse in queste qua della wonder brow non è proprio proprio simile però sempre verdona direi che terrò questa qua della wonder brow e questa qua di Kiko invece la regalerò perché è un po' vecchia non la uso più poi tutte queste matite che sono della wonder beauty avete presente wonder brow prodotto quello per le sopracciglia ecco il brand ha tutta anche una linea di cosmetici e appunto mi hanno mandato le matite per gli occhi le ho usate tantissimo nei miei lavori soprattutto questa qua dorata che è stupenda l'ho usata spesso nella linea inferiore perché appunto è questo oro bellissimo verde questa matita verde acqua invece è una delle ultime che ho comprato è di makeup geek nel colore mint e appunto un color menta verde acqua è delle matite full spectrum ed è appunto super pigmentata bellissima non vedo l'ora di usarla di fare proprio un trucco con questi colori anche perché ho comprato degli altri ombretti in makeup geek e appunto le ho presi tutti abbinati così da usarle insieme questa è un'altra matita vecchissima di Kiko 105 matita occhi in questo colore molto 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 discutibile questo azzurrino perlato lillino una cosa bruttissima decisamente questa va proprio nel cestino un'altra matita Kiko delle vibrant eye pencil anche questa credo che sia un colore proprio scemo infatti niente ci abbandonerà anche lei poi abbiamo un'altra slide on slide on di NYX non l'avevo vista però questa non mi sembra scriva benissimo infatti ha un un colore un po' un po' scemo un po' smorto niente questa la buttiamo decisamente next one abbiamo la master drama di Maybelline penso che l'avevo comprata in America e questa è rotta se non ricordo male sì comunque talmente vecchia e malandata che niente conviene buttarla e basta perché è tutta rotta non va più non sale non scende poi qua in fondo abbiamo un casual di Kiko ovviamente nera questa la avevo presa in realtà per fare una specie di lavoretto con un amico che ci serviva appunto del nero e io non avevo ancora i colori per il viso e avevamo preso questa proprio per fare un teschio boh cioè è inutile ma in realtà c'è ancora tutta quindi sinceramente non so cosa farne perché io non la userei mai però potrebbe ritornarmi utile per qualche cosa quindi vabbè teniamola tanto sta qua in fondo non rompe le scatole a nessuno qui abbiamo la two timer di NYX questa mi piace tantissimo cioè questa parte non l'ho usata molto credo che scriva ancora onestamente sì sì scrive ancora non era malaccio però la parte che piace a me è quella della matita nooo è finita non ce n'è più non so se riuscite a vederla ma non ce n'è più è finita che dristezza a me la matita piaceva tantissimo perché era bella dura e si fissava bene nella rima interna comunque se la beccate ancora nei negozi a me piaceva davvero tanto siamo quasi alla fine e abbiamo questa penna e liner di essence yeah che roba brutta guardate la punta cioè si è tipo distrutta comunque non mi ricordo quale fosse tra questa e quella di Catrice che eccola qua eccola qua non mi ricordo quale tra le due ma una delle due mi macchiava la palpebra da far schifo vabbè non scrivono tutte e due una ceppa quindi niente ci abbandonano direttamente ultima matita nel cassetto questa in realtà una specie di ricordo diciamo è una delle matite che usava mia mamma e la usava per le sopracciglia ed è una delle prime matite che io stessa ho usato per le sopracciglia io penso che lei l'abbia presa non solo per le sopracciglia ma anche per altro però è vecchissima non la userò mai se intenda bene la tengo solo per ricordo tutto qua quindi dopo aver tirato tutto fuori rimettiamo tutto quanto dentro ok eccoci qua vorrei che ci fosse un modo più carino per metterle dentro e fare in modo che non si ridisordini di nuovo non avendo i divisori si mischieranno sempre continuamente quindi questo è il massimo dell'ordine che posso ottenere quindi questi erano tutti i cassetti dedicati alle matite occhi e ai pigmenti sempre per gli occhi spero che anche questo decathlon vi sia piaciuto forse sarà un po' più corto degli altri nel prossimo video vedrete dove sistemerò questi eyeliner perché spoiler si parlerà di eyeliner vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto qua sotto di lasciare un like a questo video se vi è piaciuto e noi ci rivediamo nel prossimo ciao ciao What's left?